buongiorno dalla nostra pina c'è un po di umidità infatti anche la lente si si sporca siamo di nuovo sulla c'è siamo di nuovo siamo ancora sulla barca a long bay questo è il nostro giorno 2 in Però ho i viettan I've been feeling so small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go, spend my coin for show, I'm gonna be myself, or I could be someone else, no one's stopping me now, I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistake, I just wanna feel like this everyone's getting together, so come on, and I'll walk it over here Siamo andati a pescare, abbiamo preso solo tre pesci, però era perché ci hanno dimostrato come solitamente fanno, quindi picchiano il bastone sulla barca, non si è ben capito per che cosa, se è per i turisti o veramente per la tira di pesci, poi buttano la rete che è veramente lunga, 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 lunga e poi aspettano tre ore perché non è che i pesci arrivano in due minuti e quindi per resumo spero che i pesci li abbiano pescati questa mattina dato che adesso è la lunch time, quindi pancia mia, fatti, capanna. Adesso vediamo come si fanno i veri ravioli, il Vettina Mitin ce lo sta spiegando perché poi dovremmo farlo noi, quindi allora, scegliamo la verdura, ci mettiamo i guantini, adesso facciamo il rotolino. Perfetto! Fatto da lui è facilissimo, poi bisogna vedere se siamo noi in grado di farlo, adesso tocca a noi. Allora, cominciamo. Vettino, questa è un po' in grado di Zoom, è un po' in grado di palacina, è un po' in grado di gaudo, e molto meglio. Concire la mano in grado di acqua, un po' in grado di energia, un po' in grado di pesca, tutti gli aiutti, ogni cosa è uscita, tutto, bene. Ok, acqua qua, la staccia, la staccia, ok, questa in teoria è pasta filo, io non lo so cosa, non l'hai capito, pasta di riso, ok, va bene, va bene, scegli il cibo che ci vuoi mettere, che abbiamo noodles, carote, cavolo, insalata, porco e uova, noi lo facciamo veggie, qui c'è un smistamento di cibo, noodles, 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 lo facciamo, ah, fai, carotina, insalatina, insalatina, vabbè ci mettiamo anche un po' di uovo, adesso la sacra arte dell'arrotolamento della canna un po' di uovo, abbastanza internaрузa, c'è il bolo, b 그대로, fatata, 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 e buon了, lo j'ho soltero. è buon? no. no, fa schifo Ma no! No! Merda! No! Mi stanno prendendo in giro che non è bello! Vabbè lei è precisa, inquadrano! Guarda che brava! Guarda quando è uscito il fone! Guarda quando è uscito! Ecco lei lo sta facendo La vita è meglio! Eh, l'arte è francese! Eh, è buono! Eh, è buono! E' buono! E' buono! Ralle! E' un'europea? E' buono! Va bene! Eh sì eh! Bella la vita! E noi stiamo andando di Canon! Perché la GoPro c'è un attimino scaricata la batteria! Quindi usiamo la Canon! Sperando di non fare danni! Pagaia! Pagaia! I danni! Pagaia! Dentro la gratta! Sempre più dentro la gratta! Andiamo in esplorazione! Yeah! Ma non c'è niente qua! Dammi non posso che potremmo proprio entrare dentro! Allora! Allora! Ciao! Oh, eh. Sì! Stiamo andando a vedere come si coltivano le perle e ci hanno già fatto vedere una crosta che ha di 6 anni e altre più a piccoline Adesso facciamo un giuretto e vediamo un po' che ci raccontano Qui stanno pulendo le perle, come potete vedere Guardate quanto ce n'è, ce n'è veramente un sacco Per me avrebbe voglia di mangiarle però, vabbè, solo per farci gioiellini Andate tutti all'opera Quelle, queste qua, praticamente sono tutti arrivamenti di perle E' là dove le estraggono dal mare Questa qua invece c'è la chiatta dove lavorano appunto le perle Poi dove eravamo prima dove ci sono quelle più pregiate E invece qua sotto è dove le stavano pulendo Questa qui erano le barche che oggi ci hanno portato in duiro E la giornata è quasi terminata Grazie a tutti Non è che uno viene in Vietnam senza Gianni eh? E' certo Se no, l'assistente che deve fare le riprese Portare tutta l'attrezzatura So portare le madonne Siamo tornando dalla città della di oggi E' tardissimo Sono le... non lo so Perché non riesco a vedere l'orologio nuovo Le quattro? Più o meno Siamo a Isma Perchè ancora il jet lag E poi finchè non ritrovo la valigia che non sappiamo dove è finita non si fa Cioè non mi riprendo E abbiamo fatto kayak Abbiamo fatto swimming Abbiamo fatto delle belle cosine E niente E niente Il nostro tour Il nostro tour In Calang Bay Finisce a Kilo Adesso stiamo tornando appunto all'altra barca Perchè noi torniamo in barca Adesso abbiamo cambiato barca E abbiamo fatto la gita Adesso stiamo ritornando dalla barchessina Alla barcona Per farci la doccina Perchè noi Perchè noi Perchè noi Siamo 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 Grazie a tutti.